MADMAN 2012, zio, facete MIX TAPE! Il mio rap è un tiro di calcia con l'ammoniaca, sto fatto di piaca, il buio è una risata demoniaca, il male in forma pura, senza montatura, in una scepinova scura, all'ombra senza cromatura. Troppi neuroni partono, suoni, prigioni, intrappolo, lo sporco, il macabro, il sogno di un parroco, ogni sedano, il fegato, me lo spappolo, il disagio esplode e ci circonda fra una bomba a grappolo. Il globo in senso inverso, ma tutto si inverte, così che il sacro è perverso, mentre il massacro diverte. Il messaggio è che vinco se sono un deficiente, il messaggio è che ricco vuol dire intelligente. In bilico sull'ultimo scoglio, quello più ripido, scopro il codice criptico nel trittico. Rap post-apocalittico, che costa poco, ripalo, dopo mezz'ora di perforo a un timpano. Grazie a tutti!